A volte chiedere aiuto ci fa paura. Due appuntamenti e due giornate, lo scopo invece è unico, raccogliere fondi da destinare al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Il via sabato prossimo 30 novembre alle 18 con un convegno che presenterà le iniziative ospitate dall'Aurum, quindi alle 20 sarà inaugurata una mostra di cimeri calcistici degli anni 70 e 80, divise tute e fotografie dello storico marchio NR, ovvero Nicola Racuglia. Mostra che sarà possibile visitare anche domenica primo dicembre. A seguire alle 21 spazio allo spettacolo con l'attrice Tiziana Di Tonno e lo showman Vincenzo Livieri. Nel corso della serata sarà possibile lasciare una donazione per il reparto di pediatria dell'ospedale. Tante le associazioni che hanno collaborato alla riuscita del progetto, tra le quali anche il Napoli Club Abruzzo. Sentiamo Roberto e Vittorio Russo. Mi invito a partecipare perché sarà una giornata intensa con sport e solidarietà e beneficenza. Quindi invito tutta la popolazione a partecipare, ad essere generosi, ad aiutarci, ad aiutare i bambini dell'ospedale civile di Pescara. Vittorio, è stato facile o difficile organizzare il tutto? Difficile. Comunque è andata bene perché è un evento importantissimo. La cosa bella di questo evento è che abbiamo speso pochissimo perché gli ospiti sono stati tutti gentili e vengono quasi tutti gratis e questa è la cosa più bella.